Benvenuti amici di Assisportivo.com, siamo qui con Minannese, alla quale chiediamo un commento della partita appena svolta. Ciao a tutti, è stata una vittoria abbastanza facile quella di stasera, ce l'aspettavamo. Devo dire che la squadra ha risposto in maniera molto positiva. Stasera hanno avuto modo di giocare anche le ragazze che giocano un po' meno e hanno risposto comunque benissimo. La scorsa partita in trasferta con il Benevento è stata particolarmente sofferta, hai notato di miglioramenti nella squadra? Sicuramente sì, non è facile giocare in un campo come quello di Benevento perché comunque è una bella squadra, una squadra attrezzata, noi abbiamo avuto dei cali però siamo state brave a risalire e riuscire comunque a vincere. Quindi è una grande prestazione, hai qualcosa da recriminare, qualche commento? Forse quello che ho detto prima, qualche calo di tensione durante la partita scorsa o come ci è successo in altre partite dove magari siamo anche avvantaggiate, siamo un po' più su con i punti e poi perdiamo. Però credo che in una squadra giovane come la nostra, toltamente, ci sta tutto. Adesso ci tocca finire il girone di andata bene, abbiamo delle partite importanti con squadre di alta classifica quindi spero che riusciamo a migliorare sempre di più. Per Assisportivo è tutto, grazie. Siamo qui con il mister Cosimo Di Lucia al quale chiediamo un commento della partita appena vista. Buonasera a tutti. Niente, oggi era una partita piuttosto difficile sotto molti aspetti in quanto abbiamo attraversato una settimana veramente difficile per via di molte influenzate molti acciacchi appunto dovuti un po' anche al periodo quindi stiamo pagando un attimino di stanchezza però devo dire che è stata una partita tra virgolette gestita da parte nostra in quanto tutte le ragazze che sono entrate hanno dato il loro contributo e sono state molto molto brave anche in allenamento a fare quello che abbiamo chiesto e lo si è visto in campo. Abbiamo visto entrare comunque ragazze che non giocano spesso. Sì, innanzitutto, sono queste le partite comunque che tra virgolette servono appunto per far rodare maggiormente le ragazze meno utilizzate partendo dal presupposto che la nostra squadra comunque è molto giovane di età media e le ragazze che sono entrate in campo oggi hanno 16-17 anni quindi siamo molto contenti anche in questo, stanno crescendo molto molto bene lo devono dimostrare in queste occasioni, si sono fatte trovare prontissime. Ecco, io volevo parlare un attimo della partita con il Benevento la scorsa settimana è stata una prova di grande carattere da parte della sua squadra? Sì, è stata una prova di grande carattere in quanto comunque il posto non era molto luminoso diciamo come il nostro palazzetto era molto buio. C'è stata molta molta grinta, un 3-2 sì di carattere ci abbiamo messo veramente tanta voglia di vincere e in quel campo sono sicurissimo che molte squadre troveranno difficoltà noi l'abbiamo superata quindi guardiamo il lato positivo si è stato un 3-2 però in terra napoletana cioè a Benevento comunque non è facile andare a fare punti noi ci siamo riusciti. Esatto, un bilancio della chiusura della stagione? Siamo molto soddisfatti fino a questo punto fermo restando che qualche punticino in più potevamo averlo nel senso che stiamo peccando un attimino di inesperienza ma non da parte solamente delle ragazze un pochino di inesperienza appunto per il campionato ricordiamoci che è il primo anno di DB e quindi stiamo veramente avendo delle difficoltà minime lo si vede soprattutto nei punti persi che stiamo avendo però sono molto fiducioso perché miglioreremo sicuramente queste situazioni. Per Assi Sportivo è tutto, grazie. Grazie a te. Grazie a te.